Eccoci qua ragazzi, classico rigore, noi nelle partite decisive sempre ci danno un rigore contro, proprio fisso, fisso Rigore c'era, non c'era, dubbio, vabbè tant'è che rigore, vediamo adesso cosa fa Shesny Si riesce a fare il miracolo, ma qua è sempre la stessa storia, sempre uguale, non si cambia mai, non si cambia mai Ma io sapete benissimo, vediamo Shesny cosa fa, battuta E voilà, è 1-0 per il Porto Incredibile, incredibile Ragazzi ma lì il rigore puoi darlo come non puoi darlo, ma l'intervento, io guardate ho iniziato la partita, ho visto subito dove erano i punti deboli I punti deboli della squadra era la difesa centrale, ovviamente, guarda a caso dove arriva l'errore da parte della difesa centrale Il rigore puoi darlo, puoi non darlo, va bene, ma in quell'occasione lì Demiral deve stare comunque più attento in una partita così importante La Juve fino ad ora sta provando a fare qualcosa, ma fa molto poco, il centrocampo è veramente poco, poco propositivo come sempre 0-1 e adesso bisogna fare due gol, se fanno ancora un gol è finita la partita, è finita, siamo già fuori dalla Champions E così, è così, tanti tifosi vogliono questo, eccovelo qua, a dopo ragazzi